Il 18 giugno del 2003 il femminicidio. Teresa Lanfranconi, 16 anni, è stata uccisa per aver tentato di difendersi da una violenza mentre stava percorrendo un vicolo ciclo pedonale di Mariano Comense. Un delitto che scosse tutta la comunità, quella stessa comunità che numerosa ha voluto ricordare oggi ancora una volta Teresa. A lei è stata intitolata una via di Mariano Comense, una strada, a fianco allo Jean Monnet, istituto che lei stessa frequentava. Alla cerimonia di inaugurazione della nuova via, la famiglia e le amiche di Teresa, i professori, il preside e gli studenti dello Jean Monnet. Questa nuova via sia un modo per ricordare Teresa Lanfranconi e anche un messaggio per i ragazzi, ha detto il sindaco di Mariano Comense. Abbiamo ritenuto giusto fare questo passo in questa zona dove lei viveva, dove studiava, dove è deceduta e che resta come simbolo proprio ricordo. Tutti i ragazzi che oggi entrano proprio, i nuovi ingressi dello Jean Monnet sono proprio sulla via Teresa Lanfranconi, quindi i ragazzi entrano proprio da questa via. Il continuare a ricordare, leggendo il cartello, questo monito, che insomma l'amore non è violenza, è un monito importante per le nuove generazioni che sono poi il futuro, che possono cambiare profondamente questo modo di vivere, questo amore malato e quindi per noi è un momento molto importante. Un momento sentito da tutta la comunità, in tanti hanno voluto esserci per ricordare Teresa Lanfranconi, molti, i volti commossi. Teresa era figlia nostra, ma lo era anche di tutti voi che continuate a dimostrare che siamo una grande comunità e una grande famiglia, ha detto Simona Cappellini, cugina di Teresa. Presenti alla cerimonia anche diverse autorità civili e militari, i sindaci del territorio e alcuni consiglieri regionali comaschi. Questa intitolazione è molto importante anche per i ragazzi, ha detto Marisa Cesana. Deve essere un insegnamento per loro, deve essere proprio un momento anche di sprono per ricordare che l'amore non è violenza e che quindi il rispetto della vita e degli altri è il primo principio che dobbiamo ricordarci tutte le mattine quando ci alziamo dal letto. Sono trascorsi quasi 21 anni dal femminicidio di Teresa Lanfranconi, ha dichiarato Angelo Orsenigo, consigliere regionale del PD, e vorrei che un delitto così barbaro potesse essere considerato un'eccezione del passato. Combattere la violenza di genere, ha continuato Orsenigo, significa punire i violenti, offrire alle vittime tutto il supporto, promuovere l'educazione dei giovani uomini nelle scuole, in famiglia e nelle nostre comunità. E poi, ha proseguito il consigliere del PD, c'è il ricordo delle vittime che va custodito, anche con atti istituzionali come quello di Mariano Comense, ha concluso Orsenigo. Parla di impegno delle istituzioni per contrastare la violenza di genere, il sottosegretario Molteni. Uno dei più gravi fenomeni di allarme sociale che tocca l'Italia e il nostro territorio è quello della violenza di genere, della violenza domestica, dei femminicidi, numeri drammatici importanti che rappresentano, quando si verificano, una sconfitta per la società rispetto ai quali l'impegno delle istituzioni deve essere massimo, perché i numeri purtroppo sono numeri drammatici. L'amore non è violenza, recita il cartello della via, che sia un messaggio e un monito per ricordare Teresa e per tutte le donne strappate alla vita.